Abbiamo provato le prime due ore di Metroid Dread su Nintendo Switch OLED, e una cosa è già chiara. Tra fuga e aperdifiato e boss mastodontici, questo potrebbe essere il capitolo più esagitato e divertente dell'intera saga 2D. Atteso da quasi un ventennio e sviluppato dagli spagnoli Mercury Steam, il nuovo gioco supervisionato dallo storico director Yoshio Sakamoto ha due obiettivi. Da un lato offrire un degno seguito a Metroid Fusion e una conclusione soddisfacente a un arco narrativo iniziato su NES nel 1986, dall'altro a rendere moderna la formula di Metroid in 2D, restando sì fedeli al DNA della serie, ma dimostrando che Samus Aran ha ancora tanto da dire. In quest'occasione ci soffermiamo quindi su quegli aspetti di Metroid Dread che a caldo ci sono rimasti più impressi. Della nuova console Nintendo torneremo invece a parlare molto presto. Durante la sigla ricordatevi quindi di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuna novità su Switch OLED. Con Metroid Samus Returns su Nintendo 3DS, Mercury Steam aveva già sperimentato alcune idee in grado di ammodernare la formula dei Metroid 2D. La possibilità di mirare a 360 gradi o di neutralizzare gli attacchi nemici con un montante ben piazzato conferivano modi nuovi e più dinamici per interagire con l'ambiente o per rispondere ai pericoli. Eppure, sia per prendere la mira, sia per contrattaccare, il remake del gioco per Game Boy costringeva a fermarsi, interrompendo continuamente il movimento di Samus. Ci si metteva troppo spesso sulla difensiva, in attesa dell'attacco avversario. In Metroid Dread questo non accade. Si può mirare a 360 gradi mentre si corre, usare un contrattacco senza rallentare, scivolare in spazi stretti, colpire nemici con calci a mezz'aria o salti caricati d'energia. Samus non è mai stata così mobile e divertente da controllare, saltando e correndo da una stanza all'altra come un'indemoniata. Il nuovo set di abilità permette di giocare in maniera molto più aggressiva, di neutralizzare gli attacchi nemici senza fermarsi, di anticipare le mosse degli avversari e di conseguenza porta ad avere anche una visione più ampia e organica della stanza in cui ci si trova. Una delle dinamiche più interessanti introdotte con Metroid Dread è quella legata agli Emmy, le tali e veloci robot che perlustrano specifiche aree della mappa e che non possono essere eliminati, se non con l'utilizzo di uno speciale cannone Omega. Questo vuol dire che il ruolo di Samus si ribalta completamente in loro presenza, da inarrestabile cacciatrice a preda in fuga. La protagonista può presto ottenere l'abilità di diventare invisibile per un periodo di tempo limitato, ma gli spazi stretti lasciano poche opzioni. Prima o poi si viene beccati e tocca darsela a gambe, cercando disperatamente il percorso migliore per seminare il proprio inseguitore. Se poi si viene raggiunti, Samus ha un'ultima possibilità di sopravvivere, ma il tempismo richiesto per respingere l'attacco nemico è estremamente severo. Questo vuol dire che gli Emmy dovrebbero restare una minaccia temibile per tutta la durata del gioco, ma la rara soddisfazione che si prova nel riuscire a fuggire è impagabile. Se resterà così, però, è da vedere. Le sequenze di inseguimento funzionano così bene proprio perché, come detto, fuori dalle zone Emmy si ha una forte sensazione di potenza e agilità. Un attimo prima si attraversano senza sosta le aree della mappa facendo incetta di nemici, l'attimo dopo si è in preda al panico, cercando di seminare un robot indistruttibile. Anche l'accompagnamento musicale contribuisce perfettamente a enfatizzare il passaggio di Samus da cacciatrice a preda. La musica incalza in maniera drammatica, con l'incedere di due note che strezza l'occhio al terrificante tema dello squalo. Prima di provare Metroid Dread il timore era che queste sequenze potessero rovinare il ritmo e appesantire l'esperienza. Mercury's Theme sembra invece aver trovato un giusto equilibrio, tenendo il giocatore costantemente sulle spine ma senza opprimerlo e incalzarlo troppo a lungo. Quella protagonista di Metroid Dread potrebbe essere la Samus più espressiva che abbiamo visto finora in un capitolo della serie. Un'espressività diversa da quella di Other M, elegante e a tratti più efficace, che passa anzitutto dalle animazioni, tanto nel gioco quanto nelle cinematiche. I movimenti delle gambe durante la corsa, il modo in cui appoggia un braccio a una parete che non può superare, la fluidità con cui salta gli ostacoli bassi, oppure come si fa forza sulle braccia quando si arrampica. Nelle scene di intermezzo, quando si prepara un combattimento o dà il colpo di grazie a un enorme boss, sfoggia sicurezza e forza attraverso le sue pose, ma il volto non viene mai mostrato a caso. Quei rari momenti in cui i suoi occhi sono visibili attraverso il visore del casco servono per evidenziare ancora di più lo stato d'animo della cacciatrice, ora determinata, ora completamente sopraffatta dal nemico. Mercury's team sembra aver capito cosa funzionava poco nelle animazioni di Samus Returns, e ha proposto in Dread una Samus più energica, più acrobatica, col corpo maggiormente proiettato in avanti durante la corsa. Sono passati quasi vent'anni dall'uscita di Metroid Fusion, il capitolo della serie ambientato cronologicamente prima di Dread. Per molti, quindi, sarà il primo Metroid. Per fortuna, sebbene ricco di sfumature e approfondimenti, l'arco narrativo dei capitoli 2D è composto da pochi eventi davvero importanti, che Dread riesce perfettamente a riassumere con un breve filmato di introduzione completamente doppiato in italiano. Se però volete arrivare pronti, nella scheda in alto a destra trovate anche il nostro riassunto. La trama non è certo il motivo principale per cui i fan continuano ad adorare la serie, e fin dalle prime battute non mancano alcuni cliché. È il caso dell'amnesia tecnologica, che per l'ennesima volta porta Samus a cominciare l'avventura senza le abilità che ha ottenuto nelle missioni precedenti. Ancora una volta si torna a vestire la tuta di una Samus silenziosa, e l'unica voce amica è quella di Adam, l'intelligenza artificiale della sua nave che, come in Fusion, darà informazioni sulla base e sui pericoli all'interno di specifiche stanze sparse per la mappa. Ma l'introduzione pianta i semi anche per una storia misteriosa e un nemico ancora più terribile degli Emmy. D'altronde, l'ultima grande avventura 2D di Samus merita un finale coi fuochi d'artificio, e non vediamo l'ora di scoprire se Mercury Steam è riuscita nell'impresa. Nel primo paio d'ore assieme a Metroid Dread abbiamo fronteggiato enormi creature aliene, siamo fuggiti dagli Emmy e abbiamo esplorato due diverse aree del pianeta. Eppure si tratta solo di una piccola porzione. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, ma speriamo che il gioco riesca a mantenere l'ottimo equilibrio nell'altalenare tensione e senso di potenza che abbiamo visto in queste prime battute. Voi cosa ne pensate? Aspettavate la conclusione della saga 2D, oppure siete neofiti? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.